In politica si parla tanto della rete metropolitana che vede Sassari capofila, in pochi però soprattutto fuori da Sassari hanno capito bene cos'è, ne parliamo con chi la guida, Sì, rete metropolitana richiama una soluzione di trasporto quasi, in realtà è un neologismo istituzionale che la regione Sardegna ha voluto coniare in relazione alla scelta che ha fatto di avere una città metropolitana, la zona di Cagliari e naturalmente non poteva fare a meno di considerare, vista l'esiguità di popolazione della zona di Cagliari, di considerare anche un'altra area urbana complessa come quella di Sassari, Alghero, Porto Torres, Stintino, Sorso e Sendori, Castelsardo e Valedoria, un'area che aveva le caratteristiche di area metropolitana. Quindi in questo caso noi abbiamo acceduto all'idea di avere questo nuovo ente locale che è un'unione di comuni rafforzata che nelle intenzioni e anche nella legge regionale consente alla rete metropolitana del Nord Sardegna, così l'abbiamo chiamata, di avere le stesse prerogative della città metropolitana di Cagliari. Le opposizioni ne parlano quasi come se fosse solo un contentino dato al Nord Sardegna dopo che Cagliari ha avuto il titolo di città metropolitana. Sì, non c'è dubbio che dal punto di vista costituzionale le città metropolitane sono un ente locale che è inserito nella Costituzione, ma l'autonomia speciale della Sardegna ne fa di la rete metropolitana un ente equiparato. Naturalmente spetta a noi, al territorio, ai rappresentanti dei comuni, quindi a noi sindaci, rafforzare questo elemento e io credo che l'abbiamo dimostrato, insomma abbiamo subito costituito questo ente, ne stiamo dando gambe, siamo impegnati in questa fase a fare la programmazione negoziata con la regione e questo ha portato e porterà ulteriori risorse pari a quelle dell'area metropolitana di Cagliari. Naturalmente è una battaglia che si vince quanto più ci si crede e credo che tutti i sindaci da partire dal comune di Alghero, Porto Torres, Castelsardo, Sorso e Senori, Valledoria e Stintino, che non sono tutte del stesso colore politico, consentiranno di poter assolutamente far raggiungere questo obiettivo. Noi l'abbiamo chiamata Rete Metropolitana del Nord Sardegna anche per invitare altri comuni che stanno ai confini con i nostri di aderire. Più siamo forti, più possiamo rappresentarci in Sardegna e in Italia in una maniera autorevole e quindi considerare la possibilità di avere ulteriori finanziamenti pari a quelli della città metropolitana di Cagliari. Grazie a tutti! Grazie a tutti!